Si sono accorti che il loro amico aveva quasi 1000 euro nel portafoglio e secondo l'accusa hanno pensato di accaparrarsi di quel bottino picchiandolo con una mazza, incuranti non solo dell'amicizia ma anche del fatto che quei soldi la vittima li aveva ritirati in quanto pensione di accompagnamento del figlio che soffre di una serie disabilità. E adesso per questa vicenda è finito il manette il sancataldese Giovanni Piazza, 52 anni, mentre il secondo presunto autore della rapina è ancora irreperibile. Entrambi sono accusati di rapina aggravata e lesioni. A piazza sono stati applicati gli arresti domiciliari mentre per il secondo è stato disposto il carcere in attesa che venga rintracciato. In base al racconto fornito dalla persona offesa ai carabinieri i tre si erano prima fermati a bere qualcosa in un bar di sancataldo e poi erano saliti in auto per dirigersi a Canicattì. Nel corso del tragitto l'uomo alla guida aveva arrestato la vettura mentre percorrevano la statale 640 Caltanissetta Grigento all'altezza della zona di Favarella dove sorgeva il bullying Italia. Il conducente, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, aveva preso dal cofano una mazza e poi sia lui che Piazza avevano iniziato a colpire l'amico sferrandogli anche dei pugni. A quel punto, sempre secondo l'accusa, Piazza aveva sfilato il portafogli alla persona offesa prendendo i 980 euro custoditi all'interno. Per i colpi ricevuti la vittima ha subito traumi e contusioni alla testa e anche agli arti. Poi i rapinatori avevano anche riaccompagnato l'uomo a sancataldo nella zona dove aveva lasciato la propria auto e questi si era subito recato alla caserma dei carabinieri per presentare denuncia.